Con una collaborazione con il vendor hardware adatta abbiamo creato queste chiavette serializzate che possono essere già, diciamo così, ready to use, quindi chiave in mano, che possono essere consegnate ai singoli collaboratori già con il software pronto da utilizzare. Quindi ecco, la chiavetta viene configurata dal reparto IT prima dell'utilizzo, viene data al collaboratore, il collaboratore può utilizzarla tranquillamente su qualsiasi dispositivo, quindi ha anche una caratteristica di portabilità questa chiavetta, può usarla anche sul dispositivo privato che con un semplice reboot del dispositivo lancia questo sistema operativo separato e quindi consente di gestire innanzitutto le risorse. Le risorse aziendali da parte del reparto IT e consente al lavoratore di lavorare appunto su quelle, solo su quelle risorse, su quegli applicativi che gli vengono, delle quali gli viene concesso l'accesso. Altre due peculiarità particolari questa soluzione, ovvero tiene completamente separato l'ambito privato dall'ambito lavorativo, quindi aumenta la sicurezza del dispositivo. Inoltre consente anche, è già pronto, un configuratore, uno wizard del Wi-Fi in modo tale che appena si lancia appunto il sistema operativo da chiavetta, la rete Wi-Fi viene trovata immediatamente, viene connessa immediatamente. Grazie. Gli